Da Cuneo all'Aquila per il decennale del sisma. L'E-Bike Endurance è un evento organizzato da Asso Militari, associazione nazionale graduati e volontari delle Forze Armate e Corpi Armati d'Italia, con il patrocinio delle regioni, dei comuni e il supporto dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito. Partirà da Cuneo, dove siede l'associazione, passando anche da Roma e da Matrice. Alla partenza ci sarà un team di appartenenti ai comparti difesa e sicurezza, svariate associazioni ciclistiche e cittadini appassionati di ciclismo. Tutti però uniti con un unico scopo, la vicinanza ai paesi e ai territori colpiti dal sisma. L'arrivo è previsto il 6 aprile, in pieno centro storico dell'Aquila, in occasione del decennale del terremoto e anche nei pressi della mostra fotografica di Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni, militari del nono alpini appassionati di fotografia, lavori in corso. Una mostra che vedrà la partecipazione, tra le altre cose, anche degli alunni della Mazzini Patini. Ha loro il compito di ritrarre dei luoghi già fotografati dai due fotografi nel 2014, a ben cinque anni di distanza. Verrà organizzata anche una raccolta fondi a favore del reparto di neonatologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in modo da poter contribuire all'acquisto di macchinari utili per i nuovi nati. Il percorso sarà in totale in otto tappe. I partecipanti potranno scegliere anche di partecipare a singole tappe e molti hanno già fatto richiesta di aderire a questa bella iniziativa solidale. A ogni tappa, chiunque potrà accodarsi e raggiungere insieme l'Aquila.